Uno diverso dall'altro, questo è il titolo della mostra di Francesco Andrisano che si terrà dal 27 novembre al 4 dicembre al Circolo a Ternino. Andrisano, uno diverso dall'altro, perché? Perché intanto abbraccia il mio percorso artistico dal 94 fino ad oggi nella città di Pescara. Perciò ho diversi stati, diverse tecniche che ho affrontato durante tutti gli anni, perciò potrete ammirare i miei lavori che si sono sviluppati nell'arco di questo periodo. Parliamo di opere pittoriche e grafiche? Sì, pittoriche e grafiche, inchiostri, lì c'è una ricerca che dura appunto da allora e anche pittorica, sì, con smalti, con vari tipi di tecniche. Vuoi stimolare, leggevo, la relazione tra l'io e l'esistente, cosa significa? Significa che cerco di comunicare con lo spettatore, col fruitore, in maniera tale che il mio lavoro sia un diaframma, un ponte. Nel momento in cui scompare il mio lavoro e incomincia a stimolare l'immaginazione del fruitore, mi sento soddisfatto in questo senso. Importante anche il patrocinio del Comune di Pescara e anche la Kermess, dove ci sarà questa mostra, dove si svolgerà questa mostra, il Circolo a Ternino. Al Circolo a Ternino sì, infatti col patrocinio del Comune di Pescara e l'assessorato alla cultura. E uno diverso dall'altro vorrei aggiungere anche perché all'interno della mia antologica ci saranno anche durante le varie serate degli eventi, delle performance live di alcuni miei amici e colleghi, sia dal punto di vista musicale che artistico. Grazie. Grazie.